questa esperienza teatrale cosa le ha regalato ma è una grande esperienza che mi ha suscitato sicuramente una grande emozione perché io credo che il teatro è un mezzo di comunicazione e Peppino credeva soprattutto nel teatro perché all'interno del circolo musica e cultura aveva anche organizzato i laboratori teatrali nel suo piccolo aveva invitato anche grandi artisti ecco perché oggi diciamo a distanza di quasi 40 anni del dell'impegno che portava avanti Peppino possiamo veramente dire che il suo lavoro ha dato i suoi frutti c'è stata una continuità che ormai si è capito benissimo la figura di Peppino che diciamo oltre ad essere un grande militante politico un comunicatore diciamo un militante antimafia era anche un grande artista un grande poeta perché Peppino credeva molto nell'arte come veicolo di comunicazione e oggi i fatti hanno dato ragione a loro questa rappresentazione teatrale di questi splendidi ragazzi di questi splendidi artisti che diciamo hanno collaborato hanno chiesto la nostra collaborazione per me è un'esperienza che fa rivivere quei momenti belli quando Peppino organizzava anche lui i suoi spettacoli teatrali che immagine ha di Peppino quando ripensa a lui ma è l'immagine di Peppino che io io preferisco avere di fronte quell'immagine di un Peppino scansonato e quando andavamo al mare a divertirci si pescava lì e ci cucina e si cucinava anche il pesce sugli scogli e le passeggiate in montagna a me piace anche tantissimo un Peppino che si improvvisava diciamo mangiafuoco e intratteneva tutti i bambini nel periodo del carnevale 40-50 bambini dietro di lui e li intratteneva con quell'espressione un po' molto colorite che piacciono di solito a bambini e questo è il Peppino che mi piace di più il Peppino lontano da quell'impegno da quella sofferenza da quel jamma che aveva vissuto anche lui ecco io mi auguro che diciamo questo spettacolo questo lavoro teatrale possa rendere al massimo e possa anche coinvolgere un po' il pubblico sensibilizzarlo più che coinvolgerlo cercando di farlo riflettere ma di fare riflettere non solo sulla figura di Peppino ma sulla legalità sull'impegno sociale e culturale che stiamo portando avanti dove il teatro si lega tantissimo. Io vedo in lei uno sguardo che mi emoziona perché c'è una foto sua durante i funerali di Peppino lei è accanto a vostra madre lei ha uno sguardo verso un orizzonte diciamo immaginario e alza il braccio con un pugno. Io rivedo questo sguardo in lei lei ha avuto mai modo di guardare negli occhi Ghetano Badalamenti? Sì mi è capitato spesso quando loro ancora erano andavano in giro a Cinesi per il paese a guardarli negli occhi però queste sono emozioni che difficilmente si possono descrivere sono delle emozioni terribili però c'è quello sguardo tutto quello che praticamente è stato visto su di me e anche le emozioni io devo dire chiaramente che contro queste persone che vedevo giornalmente perché noi abitiamo appunto a cento passi dalla casa del grande boss che io spesse volte vedevo uscire non ho mai inugito sentimenti di vendetta assolutamente no e questo mi ha fatto stare bene forse è stato Peppino diciamo e anche mia magia a darmi questa bella lezione ecco e stiamo andati avanti proprio per questo motivo per quanto riguarda il pugno chiuso quello sguardo verso l'orizzonte col pugno chiuso cioè io le posso dire che quel pugno chiuso rappresenta un po' il riscatto diciamo la continuità dell'impegno politico di Peppino le sue radici politiche che erano quelle che noi sappiamo e il pugno chiuso sta proprio a testimoniare questo l'ultima cosa a proposito sempre di quella scena che citava lei io le posso dire che quel pugno alzato quel pugno chiuso alzato ancora non è stato abbassato ecco questo è anche il migliore regalo che io ho potuto fare a Peppino assolutamente sono d'accordo quale messaggio vuole dare agli adolescenti e alle nuove generazioni che considerano Peppino un eroe immortale direi ma il messaggio di Peppino è appunto cioè riprendere tutte tutte le cose che ha fatto Peppino ecco cioè non voglio dare un messaggio io direttamente ma riprendere proprio il messaggio di Peppino che è stato un grande messaggio di rottura di impegno civile e nello stesso tempo il messaggio è proprio questo che bisogna crederci io dico le nuove generazioni soprattutto ma anche alle vecchie generazioni bisogna crederci perché bisogna andare avanti noi ci abbiamo creduto e proprio per questo abbiamo ottenuto risultati importanti dopo che è stato ucciso Peppino siamo arrivati alla verità dopo tanti anni però ci siamo arrivati abbiamo abbiamo avuto abbiamo la verità giudiziaria oltre a quella storica c'è stata la commissione antimafia che ha che ha ufficialmente elaborato quella relazione dove si indicavano i depistatori e poi una delle cose importanti che nessuno si sarebbe mai immaginato ecco perché bisogna crederci perché se ci crediamo noi possiamo anche vincere e noi da questo punto di vista possiamo dire che abbiamo vinto una grande battaglia ecco la casa del bosso di etano badalamenti cioè mia magia diceva sempre lo diceva e dopo avere fatto quella scelta importante diceva di tenere sempre aperta la nostra casa anche prima di morire lei è morta nel 2004 non stava tanto bene diceva mi raccomando se quando io non ci sarò più questa questa porta sempre aperta e mi auguro questo lo dicevo pure prima che la casa di badalamenti rimanga sempre chiusa si è proprio verificato questo quella casa è rimasta chiusa dall 82 e guarda caso lei non c'era perché è morta era già morta siamo stati noi ad aprire quella casa con le chiavi della legalità noi come associazione casa memoria che fa riferimento alla famiglia impastato ecco questa è stata una grande vittoria perché 30 anni fa ma anche 20 anni fa nessuno si sarebbe mai immaginato che noi dovremmo noi dovevamo prendere possesso di quell'immobile di quella casa ecco questi sono i segnali nuovi che ci smettono tanta fiducia e speranza alle nuove generazioni